Maria ormai costretta a rimanere sulla sedia a rotelle dovrà vedersela con il suo nuovo incubo una crudele infermiera. Fernando utilizzerà questa infermità per controllare definitivamente la vita della donna che non ha mai smesso di amare arrivando perfino a corrompere un medico perché dia alla donna una diagnosi errata ma il colpo da maestro arriverà con un regalo speciale per la sua Maria un'infermiera specializzata Dori Vilces per aiutare la donna a riprendersi purtroppo però sarà solo l'inizio di un incubo la Vilces con i suoi modi bruschi e il suo duro carattere metterà alla prova la già debole Maria imponendole una riabilitazione al limite della sopportazione la convivenza con Dori sarà sempre più difficile e Fernando si rifiuterà di intervenire nonostante le lamentelle della castagneda. Il piano del Mesia è ormai chiaro vuole rimanere a Lavana e ordina l'infermiera di controllare Maria in ogni suo passo ma Maria non si lascerà abbattere da questi soprusi e felice di alcuni suoi risultati riuscirà infatti a rimettersi sulla carrozzina da sola continuerà la sua riabilitazione anche quando accadrà qualcosa di terribilmente doloroso. Durante una delle sessioni di allenamento Maria si sentirà male e le saranno somministrati dei potenti analgesici. Il dottor Zabaleta le imporrà il riposo ma lei indomita sfiderà la sua stessa guzzina e le chiederà di continuare ottenendo miracolosi miglioramenti. Fernando sarà terrorizzato dai progressi di Maria che arriverà addirittura a muovere un piede. Il Mesia andrà così su tutte le furie e raggiungerà Dori per rimproverarla. Fernando è infatti molto arrabbiato del fatto che Maria si ostini a voler continuare la riabilitazione nonostante lui abbia cercato di dissuaderla. Scopriremo però che tra l'infermiera e il Mesia c'è un rapporto che va oltre il piano lavorativo. La donna è perdutamente innamorata di lui per questo Dori segue la lettera agli ordini di Fernando non ha saputo resistere al fascino del Mesia e così è diventata la sua fedele serva. Tutto per rimanere accanto all'uomo che ama. Ovviamente il perfido uomo sfrutterà la situazione per ottenere ciò che vuole e costringerà così Dori a curare male Maria in modo che non tragga alcun beneficio dalla terapia.